Attimi di panico sulla Open Arms quando alcuni tra i naufraghi una quindicina hanno iniziato a buttarsi in acqua presi dalla disperazione dopo 19 giorni a mare. Sono stati ripescati e portati a terra dalla guardia costiera. La barca è sempre lì a pochi metri dal porto chiuso di Lampedusa in attesa di un approdo. La situazione a bordo è così tesa che il PM di Agrigento Luigi Patronaggio è partito in aereo per ispezionare il mezzo definendo la situazione esplosiva. A bordo restano 88 migranti. Ieri l'imbarcazione sembrava dovesse partire per Mallorca anche se lo staff ha sempre ritenuto assurdo un viaggio fino in Spagna. Resta il fermo no del ministro dell'interno Salvini allo sbarco ma nella contesa si inserisce il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli che ha parlato di situazione insostenibile e detto, lui che è dei 5 Stelle, che se i paesi dell'Unione voltano le spalle all'Italia è colpa di Salvini. Mentre ci si accapiglia sul destino dell'Open Arms, negli ultimi due giorni a Lampedusa sono arrivati 110 migranti sui barchini. Differentemente da altri, ce l'hanno fatta. Alarm Phone, infatti il servizio di supporto a coloro che si trovano in difficoltà nel Mediterraneo, parla di un'altra barca capovolta a largo della Libia e circa 100 persone potrebbero aver perso la vita. L'SOS è stato lanciato da un pescatore che ha messo in salvo tre naufraghi. Grazie.